Musica Benvenuti oggi 28 ottobre. Il santo di oggi è San Simone. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo il cantante Eros Ramazzotti. Ed ora passiamo all'oroscopo. Ariete. Verso la fine della mattinata il lavoro vi metterà in contatto con una persona con la quale vi conviene allacciare rapporti cordiali. Presto potrebbe esservi molto utile. Toro. Avrete voglia di cambiamenti sul lavoro e la fretta potrebbe farvi commettere errori ed imprudenze. Affettivamente capirete di aver idealizzato la persona sbagliata. Gemelli. Con energie e volontà riuscirete a superare un problema di lavoro che da tempo vi rende ansiosi. In amore sarà necessaria tutta la vostra fantasia per avvivare il rapporto. Cancro. Limitatevi alle constatazioni dei fatti. È la sola cosa certa della giornata. Per il resto diffidate anche di voi stessi. Serenità. Leone. Giornata nel suo insieme positiva durante la quale potrete sbrigare del lavoro arretrato che intralce ai vostri movimenti. Soltanto dopo farete dei progetti. Un invito. Vergine. Novità inaspettate sul lavoro porteranno buoni guadagni permettendovi di concretizzare progetti improponibili fino a qualche tempo fa. Una serata in casa. Bilancia. In flussi positivi. Solo alcune piccole questioni secondarie potranno urtarvi. La vita quotidiana può essere dominata benissimo. Non perdete mai la calma. Incontri. Scorpione. Riuscirete a fare dei progressi molto rapidi ma non dimenticate un poco di diplomazia con chi sta sopra di voi. Sempre molto favorevoli gli spostamenti. Rapporti cordiali. Sagittario. Possibili tensioni nell'ambiente di lavoro. Calcolate bene ogni mossa prima di agire. Non accettate a cuorleggero un invito perché potreste fare degli incontri spiacevoli. Capricorno. Un improvviso desiderio di libertà dai vincoli quotidiani vi renderà difficile accettare con serenità i soliti impegni di tutti i giorni. Il vostro cuore batterà per un nuovo amore. Acquario. È la giornata più adatta per fare promesse o per chiedere un miglioramento economico. La fortuna è con voi. Avrete la parola facile e troverete gli argomenti giusti. Pesci. Le stelle vi invitano a risparmio all'oculatezza in vista di un viaggio di piacere. Una vacanza romantica e piacevole da dividere con la persona amata. Riposate di più. Proverbio del giorno. A San Simone il ventaglio si ripone. Questo è tutto per oggi. Arrivederci a domani. Grazie.